Quarto giorno La novena a Gesù Bambino è una potente e antica preghiera che si recita per nove giorni consecutivi. Si può recitare in qualsiasi periodo dell'anno e ogni qualvolta si vuole esprimere la devozione a Gesù Bambino o si ha bisogno di una particolare grazia, sostegno o aiuto. Preghiamo Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della Tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei Tuoi fedeli. Senza la Tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona i Tuoi fedeli, che solo in Te confidano i Tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. O bambino Gesù, la cui fronte è recinta di corona, io Ti riconosco per mio assoluto sovrano. Non voglio più servire al demonio, alle mie passioni, al peccato. Regna, o Gesù, su questo povero cuore e rendilo tutto Tuo per sempre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Per la Tua divina infanzia, o Gesù, concedimi la grazia che istantaneamente Ti chiedo. Esprimi la grazia. Sè conforme al Tuo beneplacito e dal mio vero bene. Non guardare alla mia indegnità, ma alla mia fede e dalla misericordia infinita Tua. Gesù, dolce ricordo, che dà le gioie del cuore, ma più che il miele e tutte le cose, è dolce la sua speranza. Niente si canta di più soave, niente si ode di più lieto, niente si pensa di più dolce di Gesù, Figlio di Dio. Gesù, speranza per quelli che si pentono, quanto pietoso sei per quelli che ti pregano, quanto buono per quelli che ti cercano, ma che cosa sei per quelli che ti trovano? Né la lingua basta a dirlo, né lo scritto ad esprimere. Chi ha provato può credere che cosa sia amare Gesù. Sì, Gesù, nostra gioia, Tu che sei il premio futuro, la nostra gloria sia in Te sempre, per tutti i secoli. Amen. Preghiamo. Dio, che costituisti l'unigenito Tuo Figlio Salvatore del genere umano e ordinasti che si chiamasse Gesù, concedi propizio che di Colui il cui santo nome veneriamo in terra possiamo godere in cielo anche la visita. Per lo stesso Cristo nostro Signore. Amen. Grazie a tutti.